E siamo allo sport, pallavolo maschile serie A2, secondo successo consecutivo per la basi grafiche Geosat Lago Negro che vince finalmente al Pallalberti di Lauria 3-7-0 contro il Castellana Grotte per i Biancorossi. Ora la salvezza è davvero vicina. Antonio Coronato. La ciliegina in attesa della torta. Alla basi grafiche mancava un successo casalingo nella seconda fase, la ciliegina, per guarnire una torta che aspetta solo di essere servita, la salvezza. E la vittoria è arrivata in modo netto contro la Materdomini Castellana Grotte superata al Pallalberti di Lauria come già all'andata in Puglia. Biancorossi sempre concentrati, determinati a prendere tutto e subito fin dalle prime battute dei set, come il primo dove il timido vantaggio iniziale si trasforma grazie al solito Galabinov in un dirompente più 8 che è poi il distacco finale 25-17. L'allungo nel secondo parziale arriva anche prima ma Castellana reagisce, capisce che l'ultimo treno per i punti passa ora e pareggia a 17 più con la forza dei nervi che con la qualità delle giocate. Quando però sale in cattedra a Kvalen, la differenza si nota, il norvegese mette a terra i due punti decisivi per chiudere il secondo set sul 25-19. Gli ospiti hanno dato tutto quello che hanno e alzano bandiera bianca senza più lottare, Lago Negro vola fino a più 11 grazie al buon contributo del muro e a una difesa sempre concentrata e conquiste il terzo set, ancora 25-17 e i tre punti alzando anche il pedale dell'acceleratore nel finale. Il vantaggio da Brescia, terza in classifica, sale a otto lunghezze. Per la salvezza, quella vera, senza discussioni, basterà una sola vittoria in una delle ultime tre giornate. Primo matchball mercoledì prossimo a Montecchio Maggiore. A Lago Negro aspettano solo che la torta sia servita per poter stappare anche lo champagne e festeggiare. E' davvero bello vincere al Palalberti, mancava una vittoria, l'abbiamo fatta finalmente. E questi tre punti sono importantissimi, valgono oro. E adesso speriamo che arriva la salvezza il primo possibile. La salvezza è vicina, però non bisogna cullarsi di queste vittorie e del vantaggio. Dobbiamo stare sereni, giocare come siamo abiti a fare, soprattutto fuori casa e dobbiamo onorare il campionato fino alla fine, quindi punteremo a vincere tutte le partite.